questo dovrebbe essere il sentiero minerali che abbiamo messo tanto andare su abbiamo cominciato a andare giù anche molto lentamente non lo so comunque quando arriva alle scalinate fermati che non credo che sia il caso ok quindi Grazie a tutti. 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 Vai, vai. Grazie a tutti. 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 , a tutti. 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 , , , , , , , no, no, no. no magari magari non fa neanche parte del tracciato perché mi hai fatto andare fuori come una bestia adesso ci sono le scalinate non tutto in sella ma ci dà qualcosina che riferirà beh posso dirti questo qua se lo fossi stato esaurito mentalmente lo facevi questo è un pochone ma ma non possiamo andrea no volevo guardare un attimo la chiesetta questo deve essere guarda che bello eh no io lo so che lo so che tu andresti giù di là ma c'è troppa gente non ho voglia di però mi mandano di qua però vabbè dai ma sarà con le scalinate proviamo ad andare di qua però c'è lontana parecchio credo ma c'è un piccolo che va giù guarda a sinistra vediamo cosa è scritto magari il produttore va a rinforzare ah bello ma c'è l'ogliacchino anello di santa augusto ma vedi dai proviamo vedi dai proviamo vedi dai proviamo ma vedi dai vedi dai Grazie a tutti. 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 Oh, che tristeza. Noi siamo a 230 metri. Noi siamo arrivati praticamente in pienura. Vabbè, dai. Per cui siamo partiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.